gentili telespettatori buona giornata è arrivato o meglio è tornato toni toninelli e dice c'è tanta disinformazione e allora lancia il suo tg il tele il tele toninelli il tg toninelli contro le notizie false perché lui lui sa e gli altri forse no e sui social è diventato già un cult il telegiornale di toninelli l'ex ministro del movimento 5 stelle ha ideato uno spazio di approfondimento per smascherare la cattiva informazione e per battere la narrazione unica quindi andrà contro la narrazione unica che hanno tutti tutti i media no sapete quel fiume che è la narrazione unica il politicamente corretto e così dopo sole due puntate già un cult almeno tra gli affezionati dei 5 stelle che gli hanno affidato le etichette di tg toni il tg toni toninelli giornale e tg nello bene è lo spazio di approfondimento beh approfondimento con la parola approfondimento e toninelli non non ci stanno molto bene insieme ma probabilmente mi sbaglio così danilo toninelli lancia su facebook il suo approfondimento bisognerà vedere anche facebook che cosa ne pensa sapete che quel social è un po è un po stranuccio è un po stranuccio vabbè lasciamo perdere andiamo avanti lui dice contro informazione tipo contro spionaggio contro informazione una rubrica che l'ex ministro dei trasporti del governo giallo verde ha ideato da pochi giorni con tanto di logo è contro informazione bene e che ha fatto subito un boom quasi 3000 condivisioni alla prima diretta un successone per il tg toni che ha già rimarcato all'inizio della seconda dice prendo spunto per ringraziarvi perché la prima puntata che abbiamo fatto venerdì scorso ciao monica ciao giovanna intanto saluta come una vera star è andata molto bene abbiamo parlato di un sacco di cose non riuscivo a pensare di fare dirette di 45 minuti buonasera antonella buonasera giovanna intanto saluta no quindi il tg toni è andato avanti per 45 minuti sono curioso di vedere quali profondi concetti potrà potrà avere espresso il leggendario danilo toninelli che lui si definiva il più grande ministro che la repubblica italiana abbia mai avuto uno che lavorava pancia a terra 12 minimo 12 ore al giorno vi ricordate no ma era anche quello che aveva poca memoria in tribunale non si ricorda è passato troppo tempo no o come cantava quello è passato tanto tempo ma io c'ho tutto dentro vi ricordate gli 883 no così toninelli che si presenta in primo piano con tanto di auricolari è perché in quegli auricolari cosa cacchio sta ascoltando la musica cosa c'è la regia scusate mi chiamano dalla regia sapete come facevano nei telegiornali di qualche tempo fa forse lo fanno ancora oggi ma non l'ho più visto sì pronto la regia che dice il filmato non è pronto ah sì il filmato lo vediamo fra un anno ecco così si presenta con tanto di auricolari bianchi e spiega di dar vita a questo contenitore perché c'è tanta confusione c'è tanta confusione quanta disinformazione anche dice c'è tanta confusione disinformazione anche penso sia giusto dice l'onorevole il che sia giunto il momento di fare qualche cosa e lui fa qualche cosa stavo pensando di fare qualche diretta ha detto nel video di lancio della rubrica ha poi proseguito una due a settimana per parlare degli argomenti del giorno come una settimana o due per parlare degli argomenti del giorno forse per parlare degli argomenti della settimana vabbè insomma è difficile dice per uno dei 5 stelle stare in questo governo quanta fatica toninelli ma se avete fatto questo governo è quello di prima apposta per non andare alle elezioni per stare attaccati allo stipendio caro toni prima ti prendevi lo stipendio da parlamentare da ministro un bel 18 mila euro al mese poi ti hanno tolto da ministro e ti sei anche abbastanza innervosito perché tu hai detto di essere stato il miglior ministro della storia della repubblica adesso sei solo parlamentare a 13 mila al mese e mi viene a dire che è difficile stare in questo governo per un 5 stelle immagina stare a casa disoccupato che cos'è per un 5 stelle gli argomenti della prima puntata sono il teatrino di calenda e michetti su roma è un po tipo toninelli report una roba del genere tan 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 va bene poi l'abbraccio di salvini con il suo amico bolsonaro nel giorno in cui alla cop 26 di glasgov si prova a salvare il pianeta terra dalla crisi climatica il senatore 5 stelle critica la narrazione unica nazionale che ci racconta 24 ore che sta andando tutto bene punge sottolineando che a roma sono scomparsi i cinghiali e i rifiuti ah sì romani sono scomparsi i cinghiali e rifiuti a roma è arrivato gualtieri ha fatto via non mi sembra nella seconda puntata il menù è a ti ma forse lo diceva in modo sarcastico non ho capito io beh beh nella seconda puntata il menù è questo l'indennità di carica richiesta da nicola morro che ha richiesto indietro i suoi 1300 euro al mese più gli arretrati poi parla della famiglia grillo l'inalzamento degli oceani nelle isole tuvalu dice c'è subito interazione con il suo pubblico dice ida mi dice che salvini si è preso i meriti del bonus ne parliamo anche di questo dice il toni tg e nel movimento è già scoppiata la mania ormai non posso più fare a meno non posso perdere la prossima puntata confessa un 5 stelle secondo me deve essere proprio divertente però io vi dico in verità vi dico che non ho molto tempo di sentire 45 minuti il tg di toninelli per farmi due risate o altro da fare c'ho delle cose da fare io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata arrivederci a tutti al prossimo video grazie grazie